Il Gran Sasso, o meglio il centro turistico, dopo i recenti problemi della funivia, finisce sotto la lente di ingrandimento di due commissioni consigliari. Un'analisi accurata, durata ore, sia sullo stato finanziario della partecipata che sulle prospettive. Dalla commissione emergono notizie che dire inquietanti e dire poco per l'opposizione. La prima è che il parcheggio a pagamento del 2020 di Campo Imperatore non ha l'autorizzazione della provincia per chiudere la strada e per avere dunque la sosta a pagamento. Abbiamo scoperto che il centro turistico non aveva tutte le carte in regola per poter gestire il parcheggio a pagamento di Campo Imperatore dal quale ha percepito negli tre anni, dal 2020 al 2023, circa 300 mila euro. Quindi noi abbiamo acquisito ulteriori atti per capire la situazione reale, se potesse essere aperto, se potevano percepire dei soldi dai cittadini aquilani e dai turisti. Quindi questa è una situazione grave che abbiamo scoperto ieri e nessuno sapeva. Altra questione, le prescrizioni sulla funivia della sfisa, per l'assessore Paolo Giuliani hanno detto, sono illogiche e quindi il Comune starebbe pensando di ricorrere al Tarra. Il consigliere comunale Paolo Romano, assieme al collega Lorenzo Rotellini, continuano a invocare le dimissioni dell'amministratore unico del centro turistico Dino Pignatelli, anche perché ci sono problemi pure per la funivia. Oltre poi che dei numeri, il CTGS ha una perdita di esercizio del 2022 di quasi 300 mila euro nel 2023. Va ancora peggio considerando il periodo di stop della funivia. Abbiamo scoperto che il centro turistico ha riaperto la funivia e in realtà non poteva farlo, perché una delle prescrizioni del Ministero era quella di reperire un macchinario specifico per controllare il movimento millimetrico delle funi. Ad oggi noi non abbiamo questo macchinario. Il centro turistico verbalmente ha richiesto al Ministero di poter utilizzare un'altra procedura, un altro macchinario, ma la risposta non è arrivata. Quindi ad oggi in realtà la funivia non poteva essere riaperto. Quindi la situazione del bilancio, la situazione della funivia, la situazione del parcheggio di Campo Imperatore ci fanno capire che il management dell'azienda, quindi Dino Pignatelli e anche il Comune dell'Aquila debbono iniziare a prendere dei provvedimenti. Quindi come abbiamo già fatto sulla stampa, ieri in commissione abbiamo chiesto formalmente le dimissioni del manager e quindi dell'amministratore Dino Pignatelli e quindi aspettiamo una risposta anche nel Consiglio Comunale di lunedì.